buongiorno ragazzi ben ritrovati a tutti buon inizio settimana eh è arrivato Taremi Taremi lo sapete benissimo io non ho problemi a confermare quello che ho sempre detto ovvero sia l'ho definito il Diego Costa del discount o dell'Eurospin con tutto rispetto per il discount e per l'Eurospin perché ogni tanto eh ci vado anch'io a comprare qualcosa quindi ma è solo un modo di dire eh perché sennò potrebbe sfociare in polemica ehm Taremi è un giocatore che a me non non piace più di tanto un giocatore che quest'anno da gennaio ad aprile ha giocato cinquantacinque minuti ha fatto una coppa d'Asia io l'ho vista l'ho visto contro il Qatar dove lui non è riuscito a fare nulla quasi nulla dove poi tra l'altro il giocatore perde la testa litiga con i tifosi del Qatar e arriva quasi in tribuna a litigare con persone che in tribuna gli urlavano scarso sei scarso roba del genere è un giocatore che ha avuto una grande annata al porto ha fatto dei gol importanti in Champions League ma è un giocatore che secondo me non avrebbe mai preso e mai voluto perché a trentadue anni giocatori al zero ragazzi non non esistono più anche perché poi alla fine eh Taremi arriva sotto forma di una grande commissione al procuratore si parla di qualche milione di euro tre milioni e mezzo di ingaggio quindi è un'operazione importante quella di Taremi non è il calciatore a parametro zero attenzione è un'operazione che a livello complessivo sposta più di venti venticinque milioni su un calciatore di trentadue anni ora molte voci maligne dicevano che offista facendoli tutto per non prenderlo c'è la scusa delle visite medie ma il giocatore sta bene non ha nulla ha soppassato brillantemente le visite meni e ripeto a me non piace per nulla come il giocatore l'ho sempre detto e spero che mi smentisca sul campo quello che posso dire a favore dell'iraniano è che è comunque un calciatore nonostante il carattere difficile e rissoso è un calciatore che lotta e si ha da fare che non ha paura eh quindi quello mi piace di di Taremi può comunque dare una mano può far rifiatare i due davanti ripeto viene da un campionato dove eh il livello qualitativo è molto basso perché abbiamo visto tanti fuori classe eh portoghesi venire in Italia e fare flop tipo Jackson Martinez abbiamo visto Hulk poi al di fuori del porto abbiamo visto mh Quaresma abbiamo visti diversi no? Fuori classe del porto andare in Europa barra in Italia e fare ridere quindi eh i difensori il livello difensivo non esiste molto scarso in Italia troverà dei difensori agguerriti dei difensori bravi perché potete dire tutto quello che vi pare ragazzi ma a livello difensivo e a livello tattico il campionato italiano è sempre tra i primi al mondo se non il primo per tattica e livello difensivo chi parla male di eh cabal secondo me di calcio non capisce nulla perché cabal è un ottimo prospetto su cui investire perché è il centro è un centrale sinistro è il centrale sinistro che cercava l'Inter buongiorno è venuto fuori che l'Inter non l'ha mai cercato c'era stato un interessamento qualora fosse uscito De Vrij l'Inter non ha mai fatto nessuna offerta che buongiorno c'era l'offerta della Juve con Tiago Motta che si è esposto in prima persona quindi chi vi raccontava di buongiorno vicino all'Inter vi stava raccontando le solite puttanate perché erano quelli che vi raccontavano di Zig Zee di Virassi eh di Bento di tutti i giocatori che erano già nostri dell'Inter ma purtroppo calciatori da 30 40 milioni non arriveranno quest'anno ma io sono contento perché a me Tesman piace tantissimo eh Tesman nei play nei playoff un ragazzo di Palermo che l'ha visto giocare Venezia Palermo dice un fuori categoria è troppo forte io l'ho visto giocare al di fuori di quella partita e a me Tesman piace tantissimo come piace tanto cabal è un progetto che a me piace questo perché non è vero che Ocri prende solamente i giovani perché Taremi è un giovane è vero che è della vecchia gestione ma Taremi non è eh un giovane eh Zierischi non è un giovane hai dei giocatori esperti quindi stai abbinando dei giocatori giovani a dei giocatori esperti per quello riguarda poi Trevisani che aveva definito Lautaro Martinez il porta borracce di Julan Alvarez caro Trevisani saluto Chris eh di clan interista che ne parlavo stamattina con lui caro caro Trevisani cioè eh scarpa d'oro per il capocannoniere Coppa America il porta borracce di ehm di Julan Alvarez come dicevi te quindi scarpa d'oro per il capocannoniere Coppa America Colombia battuta una zero con il gol del capitano interista ai supplementari e ti eh e ti spiego la Coppa America la Coppa America di Lautaro caro Trevisani cioè ti d'epilogo due numerini sei presenze docento ventuno minuti totali in Coppa America di Lautaro Martinez cinque gol un gol ogni quarantaquattro minuti quindi non lo so chi è il porta borracce tra Alvarez e Lautaro Martinez caro Trevisani prima di parlare cioè come fai a dire Julan Alvarez tra l'altro giocatore che a me piace tantissimo l'Inter lo aveva in mano per diciotto milioni purtroppo il cinese aveva diciotto milioni non ce li aveva magari o qui avrebbe fatto un investimento del genere del genere ne spende quattordici su un portiere ma il cinese non ce l'aveva quei soldi tra l'altro il cinese è sparito in Cina lo hanno ricongelato lo hanno rimesso nel congelatore dopo l'ultima passarella non si sa dove sia finito chieditelo perché ma definire Lautaro Martinez il porta borracce di Julan Alvarez cioè secondo me è offensivo caro Trevisani anche perché i numeri ti hanno smettito ti hanno sbugiardato per non dire ti hanno umiliato ciao Inter